Sono gli altri che devono venire da noi. Noi non dobbiamo rincorrere nessuno. Dobbiamo sempre dare l'impressione che stare con noi è un privilegio. Non lavori a chistanotte? Sì, certo che lavori a chistanotte. Che cosa c'è stato? E quanto si parla ancora? Ma mi vedi? Guardami, guarda! Noi dobbiamo stare uniti, come quando eravamo creatori. E lì le cose si stanno mettendo molto male. Ma se adesso è quanto ne vedo ogni notte. Tanto tu dormi sempre. Io sono vecchio. Ma almeno tu hai vissuto. Io la vita l'ho vista solo passare. Sono innocente. Nessuno è innocente. Vai. Omaro, mangio, mara, terra, mangio, terra. Omaro, mangio, terra, terra, torna, maro.